Adesso dal 25 di settembre al 1 ottobre andremo a Lourdes e abbiamo riempito sia l'aereo che il treno e stiamo riempendo un pullman. Faremo questa nuova esperienza del pellegrinaggio a Lourdes col pullman. Poi avremo l'incontro alla terza domenica di settembre a Cartoceto, quello ormai tradizionale, con gli ammalati, lì al santuario della Madonna della Misericordia. E in ottobre avremo anche qui a Fano l'incontro di tutti i giovani delle Marche, dei giovani unitalsiani. Fano ospiterà questa riunione perché è la sottosezione che ha tanti giovani, una buona percentuale, per cui è giusto che siamo noi ad ospitare questa manifestazione. L'unitalsi lo trovate in via della trave, dietro la chiesina della trave, oppure su Facebook o su internet, basta digitare l'unitalsi Fano, ci sono tutti i nostri riferimenti.